La ripresa operativa del portocanale di Cagliari è ancora lontana. Colpa del lungo periodo trascorso dalla decadenza della concessione nel portocanale e come secondo l'articolo 18 della legge 84-99 dell'operatore di transhipment, ossia della movimentazione di merci prima di trasferirle verso un'altra destinazione. Una situazione che desta preoccupazione presso le imprese sarde e soprattutto quelle industriali e a vocazione internazionale. Per questo Confindustria Sardegna Meridionale ha inviato una nota al presidente dell'autorità portuale Massimo Deiana richiedendo il rilancio del portocanale di Cagliari. La non operatività del porto sta infatti comportando per le imprese un incremento insostenibile dei costi del trasporto delle merci in container, un aumento che si attesta mediamente intorno al 10%, ma che può salire, a seconda delle produzioni e delle destinazioni, anche al 30%. Se a queste criticità si aggiunge la crisi economica in atto e gli aumenti delle tariffe del trasporto marittimo dopo l'entrata in vigore del Regolamento Internazionale IMO 2020, che ha imposto alle navi l'impiego di combustibili a minori emissioni di zolfo, ma a maggiore costo, diventa evidente come sia concreto il rischio collasso per molte attività economiche dell'isola, per le quali la voce trasporto diventa sempre più pesante e che si ritrovano sempre più svantaggiate nella competizione con le realtà extra-regione. Per queste ragioni, si legge nella nota di Confindustria Sardegna Meridionale, essendo determinante rilancio tempestivo dell'attività del porto industriale per scongiurare un'ulteriore inaccettabile perdita di valore economico e occupazionale per la Sardegna, si richiede un incontro urgente al presidente Dejana per un aggiornamento sui tempi e sulle soluzioni non più rinviabili. Grazie a tutti.